Si è svolta, venerdì 17 febbraio, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso Palazzo Piloni a Belluno, la presentazione della dodicesima edizione di Ricostruire 3.0, il Salone dell'Edilizia, del Risparmio Energetico e della Sicurezza e della dodicesima Arte in Fiera Dolomiti, la rassegna d'arte contemporanea, che si terranno a Longarone Fiere nei giorni di sabato 25 e domenica 26 febbraio e il 3, 4 e 5 marzo. Ai microfoni di Veneto Globe e Radio Conegliano, intervistati da Michele Borella, Giorgio Balzan, presidente di Longarone Fiere. Presidente, una fiera giunta alla dodicesima edizione, su che cosa punterà, su che cosa si focalizzerà questa edizione? Ma l'obiettivo della fiera Ricostruire 3.0, arrivata appunto alla dodicesima edizione, è quella di portare il cittadino, le famiglie ad incontrarsi con le imprese del settore, quindi le imprese che sostanzialmente mettono a disposizione la riqualificazione, la costruzione delle abitazioni e quindi spiegare esattamente ai cittadini e alle famiglie tutte le opportunità fiscali e non che oggi il sistema e la legge di bilancio consente sulle detrazioni fiscali sia in termini energetici sia soprattutto in termini sismici. Quindi il nostro obiettivo è cercare di mettere in rete questo, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato dagli ordini professionali alle associazioni di categoria perché ci saranno veramente dei convegni importantissimi, ma anche in maniera semplice che spiegheranno quelle che sono le opportunità che oggi ci sono per migliorare la qualità della propria abitazione. Ecco, a portare le principali innovazioni anche aziende che arrivano da oltre confine nazionale. Sì, noi abbiamo sostanzialmente 141 espositori, ci sono 7-8 paesi esteri, quindi aziende che vengono da fuori, questo ci fa ben sperare e il connubio con Arte in Fiera può anche trasmettere delle future ampliamenti anche per questa combinazione costruire e arte che può essere portata all'estero. Noi da questo punto di vista non abbiamo niente da imparare a nessuno, dobbiamo solo saperlo vendere qualche volta. Ecco, un altro punto da evidenziare è l'informare sempre più le famiglie di quelli che sono i vantaggi fiscali e così? Assolutamente sì, tramite gli ordini professionali della provincia di Belluno ci saranno dei convegni mirati sia sulla parte sismica, quindi sul miglioramento della qualità sismica dell'edificio, sia sulla parte fiscale, sulle detrazioni fiscali per gli impianti necessari all'interno dell'abitazione e soprattutto per il risparmio energetico. Quindi è un'occasione importante per far conoscere quelle che sono le effettive e vere opportunità. Ma oltre a farle conoscere, farle toccare con mano, cioè proprio andare a toccare quello che è il seramento, quello che è il muro, quello che è il tetto fatto in un determinato modo. L'ingegner Irmanno Gaspari, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno. Costruire 3.0 sarà una fiera che proporrà anche dei convegni che parleranno in particolare di sicurezza. Con L'Ogarone Fiere noi tecnici, sia ingegneri, sia architetti, sia peritti che geometri, abbiamo trovato una sinergia per collaborare con loro e parlare proprio delle nostre abitazioni, della sicurezza delle abitazioni, sia nel comfort ma soprattutto anche nella sicurezza contro il sisma, contro i terremoti. Noi abbiamo appena sentito parlare del centro Italia, di quello che è successo, eccetera, e quindi noi dobbiamo dare un messaggio forte a tutti i cittadini che è necessario, è assolutamente necessario che le loro case siano sicure e quindi dare anche i messaggi per poterle dare questa sicurezza e dargli anche il messaggio che ci sono dei fondi possibili per aiutare il cittadino, che certamente non dispone di fondi infiniti, per dare appunto per migliorare la sicurezza delle proprie case. Oggi le norme prevedono degli sgravi per chi anche porta, aggiorna la sicurezza nelle proprie abitazioni e nelle proprie costruzioni. Sì, fino a qualche tempo fa si davano questi contributi per il riscaldamento, per l'ambiente, per cercare di migliorare l'ambiente e la dispersione termica, ora finalmente il governo dà dei soldi anche per poter fare i miglioramenti alle strutture, dei miglioramenti sismici o addirittura adeguamenti delle strutture. Quindi questo è importante, è una novità, anche piccoli interventi possono essere fatti attraverso questi finanziamenti che possono raggiungere anche l'85% del valore dell'intervento. Franco Fonzo, organizzatore e direttore artistico di Arte Fiera Dolomiti. Diciamo che dopo 11 anni di consapori italiani, adesso passiamo da quest'anno con Ricostruire, l'ultima è finita tre mesi fa e quindi è stata anche una bella avventura, metterla in piedi nel giro di tre mesi. Le novità sono parecchie, a parte la formula degli eventi, delle mostre, quindi un contenitore di artisti che sia storicizzati che a livello di giovani promesse dell'arte italiana. Quest'anno abbiamo per esempio una cosa in assoluto più particolare a cui tenevo molto, che è quella della musica. Ci saranno dei musicisti che faranno pezzi di musica classica, jazz, musica sperimentale, che faranno una musica di ambiente, di accompagnamento al visitatore durante il suo percorso in mezzo alle opere d'arte, una novità che vogliamo offrire al pubblico. Poi cos'altro? La Fiera continua con la sua funzione che è sia commerciale ma è anche didattico-culturale, quello di proporre diverse modalità di interpretare l'arte, diverse possibilità di esprimersi anche attraverso l'arte, attraverso appunto la conoscenza di tutti gli artisti che si muovono in ambiti completamente diversi uno dall'altro, anche perché poi il panorama deve essere molto ampio. Artisti che vengono da Torino, c'è un gruppo di artisti che vengono da Brindisi, da Milano, ci sono gallerie, ci sono anche delle gallerie di Merano quest'anno che non avevamo. abbraccio un po' tutto. Poi è chiaro che un nocciolo di artisti locali è abbastanza consistente, indubbiamente c'è. Insomma le sinergie con Ricostruire ci possono, ci sono e sono indubbiamente da continuare. Facciamo questo primo anno di esperienza, penso più che positivo, e sarà appunto stimolo per poi proseguire a creare ulteriori formule, diciamo, di incontro tra le due entità, tra le due file. Andrea Franco, Collegio Periti Industriali. Vorrei rimarcare il fatto che anche quest'anno come ordine collegi professionali siamo riusciti a fare squadra per organizzare un seminario molto importante che parlerà di sicurezza, comfort abitativo e fiscalità sugli immobili. Ricostruire ci dà appunto questa opportunità per parlare di questo argomento a 360 gradi e siamo sicuri, come è già successo anche per le precedenti edizioni, che questi nostri seminari, incontri tecnici, avranno assoluto rilievo e saranno in grado di colmare, di far capire agli interessati questi aspetti, insomma, sul mondo dell'edilizia e della ricostruzione, cioè del recupero degli immobili. Ecco, sono delle novità che arrivano purtroppo anche in seguito alle tragedie che abbiamo vissuto nel centro Italia. Certo, in effetti tutti i tecnici sono coscienti di questa problematica che purtroppo ha colpito le zone dell'Italia centrale e si parlerà anche di questo, si parlerà appunto di sicurezza, come già esposto prima l'ingegnere, si parlerà di sicurezza perché oltre al comfort abitativo e oltre a una serie di aspetti la sicurezza sicuramente è quello principale e quindi i tecnici sono in campo in questo per far sì che tragedie come quella del terremoto possano essere quantomeno affievolite da una progettazione corretta, da interventi mirati sul patrimonio esistente. L'Italia sicuramente è sempre stata una nazione all'avanguardia in questo campo e quindi noi ci auguriamo che continui ad esserlo sempre di più esportando sapere, esportando conoscenze, esportando tecnologie nate appunto in Italia. De Zà Iacomo, CFS, Scuola Idile Sedico CFS ex CFPME aveva due sedi operative molto conosciute che era una sede appunto delle Alpi e una sede Amel ultimamente tutto è stato raggruppato nella nuova sede formativa di Sedico nella nuova sede formativa di Sedico noi svolgiamo attività formative rivolte ai ragazzi che escono dalle scuole medie abbiamo circa 80 ragazzi che frequentano i nostri percorsi formativi e li portiamo ad acquisire il diploma di tecnico edile operatore edile e tecnico edile ci occupiamo di formazione superiore per i corsi post diploma, post qualifica ci occupiamo anche di tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza e da noi abbiamo circa 1.500 maestranze edili che ogni anno vengono a formarsi ci occupiamo della formazione continua rivolta alle maestranze sotto gli aspetti tecnologici che anche illustravo prima. Quanto è importante il mondo della formazione nell'ambito dell'edilizia ma soprattutto quali sono le principali novità applicate al campo della formazione soprattutto per i giovani. Sì, come detto prima noi siamo grati all'Ograno e Fiera per l'opportunità che ci viene concessa di essere presenti in Fiera noi da alcuni anni portiamo in Fiera l'innovazione l'innovazione intesa come tutto quello che viene studiato a livello alto e che può essere calato per meglio, per facilitare e migliorare il lavoro delle maestranze edili abbiamo due esempi che proprio accennavo prima un esempio è il rilievo coi droni che dopo viene trasformato sotto l'aspetto digitalizzazione in uno strumento che dalla cabina di lettura dell'operatore è capace di capire le quote dove deve scavare, dove deve riportare con grande facilità, con sicurezza e anche con velocità di lavoro altro esempio della sicurezza sul lavoro dove noi siamo impegnati a molto tempo abbiamo visto che ci sono delle strutture nuove, dell'apprecchiatura nuova che permettono di segnalare la presenza dei lavoratori nel raggio di azione delle macchine stiamo cercando di portare avanti anche queste nuove tecnologie proprio per ridurre la possibilità di infortuni sul lavoro grazie grazie grazie